Domani inizia all'Ars l'esame di bilancio e finanziaria, previsti oltre un migliaio di emendamenti. Si apre uno spiraio nelle indagini sulla latitanza del boss Messina Denaro, parla l'imprenditore Lorenzo Cimarrosa. Raccontare la Sicilia attraverso l'audiovisivo, la regione pubblica un bando per finanziare documentari sull'isola. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione di TG Media News, oggi venerdì 3 gennaio. Domani inizia all'Ars l'esame di bilancio e finanziaria, previsti oltre un migliaio di emendamenti. Sentiamo. Da domani a mezzogiorno l'Aula comincerà ad affrontare bilancio e finanziaria. Oggi scade il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. 400 solo da parte del PDL, ma è probabile che alla fine supereranno il migliaio. In ogni caso, con o senza emendamenti, il bilancio e la finanziaria sono comunque a rischio. I tempi sono stretti per evitare un esercizio provvisorio che creerebbe gravi problemi alla norma per la proroga dei precari, ma non solo quella. Secondo le opposizioni, con te il governo non tornerebbero, al bilancio mancherebbero 500 milioni di euro per il pareggio, soldi compensati sulla carta con entrate fittizie o almeno ottimistiche. Per il governo, bilancio e finanziaria, se anche passassero così come sono, sarebbero solo il primo scoglio. Dopo resteranno nel migliore dei casi una trentina di giorni per la legge di riforma delle province e dopo il rimpasto di giunta. L'Udc di Giampiero Dalia, pronto d'alleanza a destra a livello nazionale già da qualche mese, ormai ha mollato l'ancora e chiesto ufficialmente al Presidente della Regione di aprire il nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Un'apertura oggi ad Alfano e Soci potrebbe garantire a Crocetta quei voti che mancano alla maggioranza e la cui assenza ha causato la bocciatura della norma per la proroga dei commissari della provincia. Ma Crocetta accetterà di dipendere da questa nuova possibile maggioranza? Per muoversi in Parlamento, giacca, cravatta e valigetta obbligatori, anche se formalmente assunti con contratto di Colf. Assunzioni per decine di nuovi collaboratori, i portaborse inquadrati come Colf. Così i parlamentari trovano il modo di salvare i contributi destinati ai collaboratori dopo la legge che ha ridotto gli stipendi e deputati da 11.780 euro netti a circa 8.300 euro e che ha riscritto le regole per i contributi legati a dipendenti e collaboratori, prevedendo dalla prossima legislatura solo un budget di 60.000 euro all'anno da spendere per i collaboratori amministrativi. Una norma transitoria ha però fatto salvi tutti i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, cioè il 31 dicembre. In questo modo i portaborse contrattualizzati entro la fine del 2013 potranno essere destinati 3.180 euro percepiti da ciascun deputato per finanziare la propria segreteria. La tipologia del contratto da Colf, all'interno del quale è prevista anche una categoria di atti amministrativi, consente infatti l'assunzione per chiamata diretta trattandosi di servizi alla persona ed è dunque l'unico che prevede la tipologia utilizzabile da una persona fisica quale un deputato. L'Ars ha stanziato per queste spese un massimo di 3.620.000 euro. Le regole previste per i contributi di collaboratori e dipendenti non lasciano comunque indifferenti grillini che chiedono parte dei soldi che fino a quel momento avevano restituito alle casse pubbliche. In parte abbiamo chiesto all'Ars di riavere 3.180 euro cui prima rinunciavamo ma li utilizziamo per pagare una ventina di contratti per lo più ai giovani avvocati con cui prepariamo le nostre leggi, ha detto il leader dei grillini Giancarlo Cancelleri. Noi facciamo comunque contratti di importo inferiore ai 3.180 euro e dunque non impieghiamo tutta la somma né la sottraiamo a quel fondo destinato al microcredito che continua ad essere alimentato con la parte di stipendio a cui continuiamo a rinunciare. Leader dei grillini Giancarlo Cancelleri lamenta la costante assenza dal lavoro di uno dei dipendenti stabilizzati assegnato e stipendiato coi soldi del gruppo e scrive al presidente Giovanni Ardizzone. Gli stabilizzati, un'altra categoria di cui potrebbero avvalersi i gruppi parlamentari, personale assunto nelle passate legislature è sempre confermato, ma questi dipendenti che continueranno a lavorare al costo di altri 4 milioni e mezzo di euro all'anno fino alla fine della legislatura non sono ben visti dai gruppi che hanno deciso di chiamare personale dall'esterno che pagheranno coi propri fondi. Una terza categoria dopo stabilizzati e portaborse di assunti per chiamata diretta. Lo scontro tra stabilizzati e collaboratori che da settimane infiamma il Parlamento emerge a chiare lettere nell'appello lanciato dal leader dei grillini Giancarlo Cancelleri al presidente Ardizzone. Uno dei dipendenti stabilizzati che ci è stato assegnato non viene mai a lavorare, non c'è traccia del suo badge, perché dovremmo pagarlo coi soldi del gruppo? Possiamo impiegarli meglio, scritto Cancelleri nella lettera inviata a Giovanni Ardizzone. Sono 86 i dipendenti stabilizzati, il cui contratto a tempo indeterminato è però messo in discussione dalla legge tagli e stipendi entrata in vigore il 31 dicembre, che è anche previsto che dalla prossima legislatura si potrà spendere per i collaboratori un budget di soli 60.000 euro all'anno. Dal 2017 i parlamentari dovranno dunque scegliere tra stabilizzati portaborse e dipendenti esterni selezionati direttamente dai gruppi. La Regione torni sui suoi passi e modifichi le scelte fin qui ipotizzate per l'ospedale San Vincenzo di Taormina, che rappresenta un'eccellenza in termini di servizi al cittadino e di risultati, sia per il numero e la tipologia di interventi, sia per il basso indice di complicanze tra i reparti. È quanto chiesto all'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino dall'onorevole Pippo Currenti nel corso di un incontro proprio sulla struttura ospedaliera di Taormina. L'assessore ha garantito che la questione sarà approfondita e che se ci saranno le condizioni sarà pronta a rivedere la posizione del governo sulla struttura ospedaliera di Taormina. Cambiamo argomento. Termini Marese potrà vantare anch'essa il suo club Forza Italia, il primo ad essere nato nella provincia di Palermo ed uno dei primi creati a livello regionale. Il club mira a diventare un punto di riferimento della politica di aria centrodestra del comprensorio termitano. Suo obiettivo sarà quello di avvicinare gli elettori delusi, confrontarsi con i cittadini per aiutarli a risolvere i problemi, con pratica di volontariato e di controllo sulla gestione della politica locale. Neocoordinatore cittadino di Forza Italia sarà un giovane militante del partito, Nunzio Panzarella. Ci fermiamo pochi minuti per la pubblicità. Si apre uno spiraio nelle indagini sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Parla l'imprenditore Lorenzo Cimarrosa. La mia azienda è stata per anni il suo banco, Matt. Sentiamo. Nuovi scenari sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L'omertà attorno alla latitanza del nuovo numero uno di Cosa Nostra inizia ad essere scalfita. A parlare è l'imprenditore Lorenzo Cimarrosa, che ha spiegato ai magistrati di essere stato lui a finanziare il boss e la sua famiglia. L'imprenditore, la cui moglie e cugina del super boss, uno degli uomini più fidati di Messina Denaro, era stato arrestato nel blitz del 13 dicembre scorso. Sono esasperato dai continui arresti, dalle perquisizioni e dai sequestri che fate a Messina Denaro, avrebbe detto il collaboratore carabinieri del Ross. I magistrati Paolo Guido, Marzia Sabella e Teresa Principato hanno spiegato il ruolo dell'imprenditore all'interno dell'organizzazione. Negli ultimi mesi Cimarrosa avrebbe fatto avere al super boss circa 60.000 euro, 8.000, soltanto nel mese di dicembre. La sua azienda, l'MG Costruzioni, intestata ai figli ed aggiudicataria di rilevanti appalti nel Trapanese, è considerata dal boss come una sorta di bancomat. Incidente mortale la scorsa notte a Palermo, in via la regione siciliana. La vittima è una donna, Nunzia Daniela Cepullaro, di 44 anni. Era all'euida di una lancia Ypsilon, che per causa incorso di accertamento è finita contro un albero, mentre percorreva la circonvallazione. Il sinistro si è verificato all'altezza della rotonda di Vioreto, poco prima dell'imbocco dell'autostrada 19 Palermo-Catania. E' un uomo di 29 anni, Vincenzo Castelli, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21 lungo la strada statale 121 tra Catania e Paternò, mentre era alla guida di uno scooter. L'amico che viaggiava con lui è rimasto ferito ed è adesso ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi di Catania. Nonostante la firma del contratto e l'annuncio prima di Capodanno del turno straordinario per coprire il 50% della città, anche durante la festività Palermo è ancora assediata da rifiuti. Il presidente della RAP, Sergio Marino, e il sindaco Leoluca Orlando hanno quindi annunciato trasferimenti per capi area e capi servizi, perché è mancata un'attenzione da parte del personale e dei dirigenti nei confronti della comunità, spiega Marino, che annuncia provvedimenti forti, che siano in grado di rilanciare un'azienda che deve mettere da parte le esigenze dei singoli in favore di un servizio da rendere alla collettività. Nel corso del 2013, oltre 1.800 utenti si sono rivolti al Corecom Sicilia per tentare di risolvere un problema con gli operatori telefonici e di questi oltre il 50% sono usciti dal Corecom con la soluzione del problema. Tra indennizi e bollette annullate sono rientrati nelle tasche dei cittadini siciliani oltre 300.000 euro, grazie al servizio di conciliazione che il Corecom svolge dal 2012 su delega dell'Agecom a titolo gratuito, a difesa e a garanzia dei diritti dei cittadini. È fondamentale, dice il presidente Ciro Di Vuolo, che i vertici dell'amministrazione regionale mantengano gli impegni assunti in merito all'apertura di una sede di staccata del Corecom a Catania per facilitare l'espletamento dei tentativi di conciliazione anche agli utenti della Sicilia orientale, che spesso scoraggiati dal viaggio per venire nella nostra sede di Palermo non producono l'istanza o direttura dopo averla inoltrata rinunciano senza presentarsi. Voltiamo pagina. Raccontare la Sicilia attraverso l'audiovisivo. La regione pubblica un bando per finanziare documentari sull'isola. L'assessorato al turismo mette a disposizione 415.000 euro per un numero minimo di 10 lavori. Sentiamo. 415.000 euro per finanziare documentari che raccontino la Sicilia è l'iniziativa dell'assessorato regionale al turismo che attraverso la Film Commission finanzierà l'iniziativa facendo ricorso al fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. I documentari dovranno trattare la storia della Sicilia, i suoi personaggi e il suo patrimonio culturale, ma ci sarà spazio anche per i miti, le figure femminili e le minoranze nell'isola. Destinatari del bando, che non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma che è consultabile sul sito della regione, sono le imprese di produzione con sede legale e fiscale in Italia e che operino nel settore audiovisivo da almeno due anni. Le riprese dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma della Convenzione con la regione dovranno essere concluse entro un anno e mezzo, previa firma del protocollo di legalità. La graduatoria finale sarà stilata considerando tre diversi parametri, caratteristiche dell'opera, dei soggetti proponenti e effetti sul territorio. Massimo 40 punti per il primo parametro, 30 per gli altri due. Saranno finanziate le opere che raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti. Il finanziamento massimo sarà di 40.000 euro, determinato in base al punteggio ottenuto. L'intera somma finanziata dovrà essere investita nell'isola, i professionisti che vi lavoreranno dovranno essere per numero siciliani nella percentuale del 70%. A ridosso delle festività, i consumi e i tradizionali acquisti natalizi hanno registrato in Sicilia una contrazione attestata sin intorno al 25% rispetto allo scorso anno. Un fenomeno che ha investito tutte le tipologie merceologiche a partire dai generi alimentari. Ad affermarlo il presidente regionale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti, Salvatore Bivona, che cita i primi risultati di uno studio condotto dall'Osservatorio sull'andamento dell'economia interno all'Associazione di Categoria. I saldi che prenderanno il via ufficialmente domani, conclude, rappresentano un'occasione preziosa per ridare fiato al commercio isolano in stato di affanno, nell'attesa che prende a corpo la ripresa economica annunciata dal presidente della regione, Rosario Crocetta. Sarata finale al Teatro Biondo domani per Italian Hour Discography, la gara canora in cui si sfidano 40 giovani talenti. A presiedere la giuria sarà il paroliere di Lucio Battisti Mogol. Vediamo. È una manifestazione direi unica nel suo genere in quanto abbiamo deciso di distinguerci da tutti gli altri concorsi proprio perché è un concorso internazionale, quindi sono 40 giovani provenienti da ogni parte del mondo che hanno una passione in comune, la passione del canto. Infatti domani sera, come dicevi bene, dalle ore 20 in poi al Teatro Biondo di Palermo ci sarà questa manifestazione. Il presidente di giuria è una giuria davvero di spessore, di qualità, una giuria tecnica che sarà presieduta dal grande maestro Mogolle che per l'iniziativa sarà a Palermo, quindi domani il maestro Mogolle. Ci saranno tantissimi premi, il primo assoluto infatti sarà premiato con il CET, la scuola del maestro Mogolle. Durante la serata ci saranno anche numerosi premi, un premio in modo particolare per la legalità, che sarà consegnato dal presidente del Parlamento Centro Studi della Legalità, il professor Nicola Mannino, che darà un premio a firma del presidente del Senato e del magistrato Caterina Chinnici. Poi ci sarà una serata sempre condotta maestrevolmente da Giussi Rendazzo e Michele Cucuzza, quindi due nomi molto importanti. Media parte dell'iniziativa sarà anche il Radio One, infatti Sebù e la vigilia sarà anche tra i giurati. Il primo classificato avrà la possibilità anche di andare in onda sulle frequenze di Radio One, quindi è una manifestazione davvero ricca di iniziative, l'ingresso sarà libero ma solo su invito. Il 7 gennaio a Villa Malfitana, la 17.30, avverrà la premiazione del vincitore del progetto Finanziamento alla ricerca in campo oncologico Emanuela Brancati, un progetto di finanziamento dell'ammontare di 6.000 euro che vuole essere un ulteriore input alla lotta contro il cancro, obiettivo questo portato avanti dall'associazione Luna Dolce Emanuela Brancatiollus, nata nel 2010 per volare di una giovane donna vittima del cancro. La valutazione del vincitore della ricerca svolta presso il reparto di chirurgia plastica del Policlinico Paolo Giacone di Palermo è stata effettuata da una commissione di esperti in materia, composta da rappresentanti dell'associazione, medici del reparto oncologico Arnas Civico di Palermo e accademici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. Questa sera alle 21 a Villa Cattolica a Bageria, concerto di musiche siciliane e di mare, diretto da Francesco Maria Martorana, della compagnia Tango di Siu, le musiche dei porti. Il concerto è stato organizzato a sostegno della Caritas Cittadina. E questo è tutto, il telegiornale finisce qui, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.